La Mitsubishi ammette di aver manipolato i dati dei test sulle emissioni di oltre 600.000 auto. Il titolo della casa automobilistica giapponesi ha perso il 15% alla Borsa di Tokyo quando è stata annunciata la conferenza stampa sulle condotte improprie nei test sull'efficienza dei consumi. Abbiamo scoperto che sono state alterate le rivelazioni sui consumi di carburante rispetto ai dati reali. Abbiamo anche constatato che i test sulle modalità di risparmio carburante non erano in linea con le normative giapponesi. Offriamo ai nostri clienti le più profonde scuse. Lo scandalo delle falsificazioni nei test sulle emissioni è partito lo scorso anno dagli Stati Uniti ed ha coinvolto principalmente i modelli diesel della Volkswagen. La missione del costruttore di auto giapponese arriva nel pieno di una settimana da incubo. Appena qualche giorno fa negli Stati Uniti la Mitsubishi ha raggiunto un accordo economico fissato a 84 milioni e mezzo di dollari con un gruppo di clienti che aveva intentato una class action.